Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. La mobilità pubblica e privata è tra le protagoniste del rapporto alla città dell'amministrazione capitolina presentato dal sindaco Gualtieri. Tra gli obiettivi per i prossimi anni il prolungamento delle metropolitane intanto a dicembre termineranno i lavori serali di ammodernamento della linea A. Prosegue intanto la riqualificazione progressiva delle strade della viabilità principale e sono aperti i cantieri giubilari, in particolare quelli di Piazza Pia e Piazza dei Cinquecento a cui da marzo si aggiungerà quello di Piazza San Giovanni. E sul tema della sicurezza stradale l'obiettivo dell'amministrazione è far diventare entro il 2026 il 70% delle strade capitoline zone con un limite massimo di velocità a 30 km orari.